Cecilia e Ignazio hanno detto sì, felicissimi anche all'uscita mano nella mano, tanti tanti auguri. Sono sincero che mi ero scritto un discorso prima, poi ti ho sentito dire che hai da sfigati e legge il discorso, quindi ho dovuto rivedere i miei piani, quindi andrò un pochino più spontaneo. La cerimonia è stata una grande emozione, sicuramente anche la festa, tanti tanti auguri.